Digest in England by the bound Digerendo l'Inghilterra, testi e contesti Puntata dedicata ai testi dei Genesis dell'area Gabriel e, come si diceva una volta, impegnati. La bende infatti non ha scritto solo testi medievali, vittoriani, biblici o ispirati a Lewis Carroll. Ecco allora dove trovare temi sociali o politici nei testi dei Genesis. Inutile cercarli nel biblico e religioso From Genesis to Revelation. Eccoli spuntare in trespass. Sentiamo Stagnation.